Urca ben urca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzuoli siamo qui perchè sono appena uscite le sfide della settimana 1 E ragazzuoli oggi vi farò vedere la sfida balla in diversi luoghi proibiti Ragazzuoli il primo luogo appunto dove ballare per tra virgolette la prima fase è proprio questa ragazzuoli Quindi crocevia del charpano e qua ragazzuoli come potete vedere ci va anche questo E dovremmo solamente ballare Ok l'abbiamo eliminato Meno male E ragazzuoli Guardate qui balla in diversi luoghi proibiti ce l'abbiamo fatta ragazzuoli Quindi il primo è fatto passiamo al secondo Ok ragazzuoli rieccoci qui stiamo andando esattamente a tomato town o comunque tra tomato town e rapide per appunto sbloccare tra virgolette la seconda fase di appunto balla in diversi luoghi proibiti E qui ragazzuoli dove ci saranno questi due quodio su questa collina tra brusco materante tomato town e rapide rischiosi troverà appunto qui il cartello Stavo andando non si sa perché è qua Però si troverà comunque qua Qua c'è una mira che fa veramente C'è questo qui ragazzuoli non mi ha preso C'è una mira che veramente Ciao ragazzuoli non mi ha ammazzato con l'M4 io l'ho ammazzato con la Digor Ma va bene Raga appunto qui si troverà il secondo cartello proibito tra virgolette Ok ragazzi siamo sempre nella stessa partita di prima E va bene A parte questo Ora vi mostrerò dove trovare il terzo appunto cartello proibito Dove appunto bisogna ballarci davanti quindi la terza fase E ragazzuoli qui ci sarà appunto il secondo cartello Cioè questo qui ragazzuoli Balliamo E siamo a 3 su 7 ragazzuoli Quindi ci vediamo con il quarto appunto Tra virgolette luogo di questa missione Ok ragazzuoli ci siamo Siamo sempre nella stessa partita Siamo fuori safe ma comunque siamo qui Non si sa come ma siamo riusciti a fare tre fasi appunto di questa missione In una partita singola Quindi ragazzi balliamo E siamo a 4 su 7 ragazzuoli Passiamo raga quindi alla quinta location Ok ragazzuoli stiamo praticamente scendendo Per andare appunto alla quinta location di questa missione raga Infatti come possiamo notare già qua Si trova appunto il cartello Del quinto luogo proibito Quindi raga questa è la quinta location Balliamo 5 su 7 ragazzuoli Ok ragazzi ho messo il segno È il luogo della sesta location di questa missione Quindi balla davanti ai luoghi proibiti Ci hanno anche aiutato perché dobbiamo salire Qui ci hanno fatto addirittura la carrucola Per salire appunto sulla montagna E ragazzuoli appunto questa Sesta location si troverà esattamente qui ragazzuoli Guardate ci ha portato direttamente alla carrucola Eccola qui Quindi balliamo 6 su 7 ragazzuoli Ok ragazzuoli ci siamo Eccoci qui Siamo nell'ultima location di questa missione Della missione Balla in diversi luoghi proibiti E ragazzuoli è esattamente qui dove ho messo il puntino blu Cioè su questa montagna Dove appunto ci sarà il cartello E dove c'è anche questo praticamente Quindi balliamo E siamo a 7 su 7 ragazzuoli Quindi io spero che il video vi sia piaciuto ragazzi 7 su 7 missioni completate E niente Qui da noi ci sono già tutto Urca bene urca a tutti